Ma ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video dove vi farò uno speciale 30 iscritti Faremo una morning routine Possiamo partire Allora, ho già stellato il cavallo perché se no ci mettevo troppo Devo solamente fargli le cure giornaliere e posso Ok, quindi andiamo da Dalla Amber Ok, sì, dall'Amber Poi vi racconto Ieri mi stavo allenando con lo starter e inciampa garoppando Quindi si è fatto male E quindi adesso è fermo Però lo devo comunque far camminare perché non resti fuori allenamento Così che poi almeno è meglio Quindi dopo lo porteremo al passo Lo porteremo al passo in campo Mi vado ad allenare da Guglielmo Gadea Che è tipo Ti danno extra un botto il SPI 500 mi pare E quindi alleno al massimo il mio cavallo Che al momento sto usando per allenarla la mia mezzo sangue Poi passo con il paint No, non devo fare questo Vabbè E niente Ok E niente la porto qua Vabbè, un po' la metto a caso E Gli Faccio i piedi Vabbè sarebbero zoccoli Io li chiamo piedi ma è uguale Poi Io do da bere Allora lo so Però non ho il cibo Quindi al momento non è che hanno da mangiare i miei cavalli Vabbè Siamo in un gioco So che dovrei prendermene più cura Però Non ce l'ho Quindi non posso farcene niente E vabbè Niente Adesso mi devo cambiare io Perché sennò non è niente abbinato No Questo è brutto No No Ecco Questo è meglio Mi cambio gli stivali No Questi Questi Ok E E niente Adesso ci Usciamo dalla stalla E Vabbè Andiamo Siamo in un gioco Benissimo Ho finito la gara Stranamente Ho fatto tipo 4 penalità Tipo Adesso vado a prendere appunto il mio starter Per andare a farlo camminare Siamo in un gioco Siamo in un gioco Siamo in un gioco Ho finito la gara Siamo in un gioco Siamo in un gioco Allora Siamo in un gioco Grazie per la visione!